Salve amici, oggi è martedì 25 settembre 2018, la classe di oggi parte con 5 minuti sul remorgometro, velocità tra i 2,10 e i 2,20 minuti per 500 metri sufficienti per scaldarci. Poi avremo un po' di mobility, faremo due minuti di pigeon pose per lato, poi dei band hip openers e a seguire un esercizio di mobilizzazione dell'anca. Tutti questi tre esercizi li trovate nei link indicati qui sotto. A seguire avremo 10 e-to-mom, quindi ogni due minuti al minuto e dovremo fare una tre position squat clean seguito da un jerk. Finito questo lavoro avremo tre per otto minuti di tre round for time con 20 hang clean fatti con due dumbbell, dei double unders, poi vi dirò quanti sono, avremo poi di nuovo 20 jerk con due dumbbell e di nuovo dei double unders. Dobbiamo riuscire a fare tutto in otto minuti o in meno di otto minuti in maniera tale da recuperare il tempo tra quando finiamo e quando scatter successivo all'ottavo minuto oppure al sedecesimo. I carichi sono riportati nella grafica qui di fianco. Buon WOD, ci vediamo domani.